wow siamo sulla luia ragazzi si scende wow ragazzi terreno molto asciutto in questo tratto lasciamo la scivolare giù guarda la tendenzina bella la spondina che avremo su lui alle radici nel tratto hard dopo il rilancio a metà sentiero ragazzi open break open break ed ora giù il musetto della bimba ragazzi il terreno è davvero spettacolare dicevo terreni tirati a lucido grande igor ci piace questo ragazzo intraprendente che ci sta spoilerando un secondo trail veramente lussurioso wow ragazzi ora di nuovo giù radici vertical guardalo qua prendiamo la traiettoria giusta yes bello wonder yes wow 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 ragazzi super bello veramente pettinato come una bambola nuovo wow su questo tipo di terreno la nostra super rain della giant sfodera il massimo della performance wow e dopo il rilancio ragazzi abbiamo di nuovo il vertical time wow up and down compressione pompa pompa bello mamma mia ragazzi che sound e ora lasciamo la fluidificare wow ci picchia ragazzi guardate queste radici che sbucano fuori ma rientrano subito ancora fuori guardalo qua passaggini belli 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 ragazzi con il rilancio super qui aumentiamo il coefficiente di difficoltà ragazzi rispetto al vvf il lui è leggermente più impegnativo sono le radici a tenere vivo e soprattutto vigile l'attenzione wow guarda qua ragazzi che doppio rilanci no spettacolare saltino yes mamma mia dai 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 su su con rilanci no tiene la buona ora litte canyon mamma mia ragazzi quando ci piace quanto c'è in tripa yes guardalo uh double s mamma mia che giocattolino wow 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 super ed ora abbiamo il ponticello guardate ragazzi ponti tibetani mamma mia che beautiful wow wow ora rilancio scaliamo compressione wow su dai bello mamma mia mamma mia watch qui edichiamo il salto ragazzi siamo sulla chicken line yes wow mamma mia che beautiful ragazzi che beautiful story yes wow nulla di banale ragazzi qui abbiamo davvero un coefficiente leggermente più alto ma davvero un paradiso tra tutti i bach e vediamo un paradiso spettacolare la vertical time compressione mamma mia uh ragazzi passaggio stretto wow ragazzi che buono ci voleva ci voleva ragazzi la prima uscita dell'anno dalla nostra terra ci porta a scoprire davvero un paradiso tra tutti i bach e venite 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 diceva il mio stadio pubblicitario wow ragazzi ancora litte radici wow super dai 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 open open fire bello ora lato nord humid moment radici con compressione mamma mia pietraia ragazzi ora siamo sulla parte finale dell'UF che abbiamo già fatto prima quindi conosciamo e quindi lasciamo andare yes vai vai ragazzi super mamma mia guarda che entrata di nuovo wow bello double eyes ancora super è un paradiso un paradiso terrestre ragazzi wonder wonder salto in boga yes wow mamma guardalo qua che meraviglia ragazzi che meraviglia che giocattolino non ho più parole ragazzi incomincio a finire le parole perché è veramente spettacolare ora rilancio butto a destra ragazzi chiudo spondina bello questa è una spondina veramente stretta guarda ancora uh guane rilancino yes ora abbiamo il humid moment lato nord yes tieni 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 wow bello bello wow wow super super vertica ancora yes mamma mia che sound che spettacolino mamma uh ragazzi davvero entusiascante mamma mia cambia la temperatura ma non cambiano le emozioni yes wow uh ed ora ci siamo siamo al termine ponticello e poi avremo l'ultimo pezzo wow raga 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 super show di nuovo ponticello guardalo qua wow up and down su uh wonder di nuovo giù ed ora guadino guadino yes uh uuuh